Al quarto trofeo Città di Agnone, trofeo Aido, anche il delegato regionale allo sport Carmelo Parpiglia insieme al presidente dell'ASD Atletica Agnone, Labbate. Carmelo, iniziative di questo genere evidentemente, ma lo abbiamo detto anche più volte, fanno bene al territorio? Assolutamente sì, è un evento che promuove benissimo lo sport e l'atletica in modo particolare ma anche riesce a veicolare un'immagine bella, positiva della nostra regione, di Agnone e della nostra regione. Lo sport è questo, è festa, ma è anche possibilità di aggregazione, possibilità di promuovere il territorio e quindi anche avere così in questo modo un incentivo dal punto di vista turistico. Il presidente Labbate sta lavorando benissimo, in modo veramente efficace, riesce a promuovere questa disciplina che è la più bella, la regina delle discipline, l'atletica e quindi per tutta questa serie di motivazioni la regione molise non può personalmente, ma anche come rappresentante istituzionale, non può che rappresentare, che può favorire e sostenere queste iniziative. Presidente, è stata una bella manifestazione, tra l'altro con uno scopo sociale e benefico. Vabbè, lo scopo sociale e benefico è rappresentato dalla grande collaborazione con l'Aido, la Casa Famiglia e l'Oratorio e con l'Associazione Nazionale Carabinieri in Concedo. Io ringrazio il delegato allo sport Carmelo Parpiglia della regione molise per la sua presenza oggi. Mi dispiace che non possa presenziare alle premiazioni perché ci sono altri motivi, altri impegni istituzionali che lo devono portare altrove. Comunque lo ringrazio per la sua presenza oggi in Agnone, come ringrazio la presenza delle telecamere di Tele Molise. Carmelo, quindi per concludere, Agnone per un giorno si è vestita da atletica. Sì, assolutamente. Diciamo che Agnone è il centro dello sport regionale, ma senza esagerare, perché veramente in questa cittadina, dal calcio alla pallavolo, all'atletica, è sempre presente e riesce ad organizzare degli eventi, ma soprattutto le attività sportive che fanno bene alla città, che fanno bene ai giovani e quindi più di questo cosa si può chiedere.